Un grande edificio antico, di epoca italica e romana, completamente sepolto e sta individuato grazie a indagini radar e alcuni sopralluoghi preliminari, nel sito di Casepente a Sulmona, aria interessata dal contestato progetto per la costruzione di una centrale a compressione della SNAM. La sovrintendenza archeologica competente parla quindi di elementi che potrebbero già indicare la possibilità di prevedere una delocalizzazione dell'intervento in progetto di quest'area. Nel rapporto sulla verifica dell'interesse archeologico dell'aria, trasmesso dalla SNAM a febbraio 2019 alla loro sovrintendenza archeologica dell'Abruzzo, l'indagine effettuata da una società specializzata ha rivelato con i sopralluoghi la presenza di materiale archeologico su tutta l'aria oggetto della ricognizione. Frammenti di tegoloni, di mattoni, pietre con evidenti tracce di lavorazione, cubili a frammenti ceramici. Il radar ha poi evidenziato strutture antropiche sepolte, di cui una più rilevante e altre probabili. Gli esperti aggiungono quindi che la presenza massiccia di reperti e le pregresse segnalazioni, seppur generiche, non lasciano dubbi sull'esistenza in loco di un insediamento diffuso e articolato nello spazio e nel tempo, a maglie larghe, di epoca italica e romana, compreso tra due importanti assi viari che dalla concapeligna si dirigevano o si dirigono verso est. La conclusione a cui giungono è che la ricognizione archeologica ha portato all'individuazione di materiale archeologico antico sull'intera area. La sovrintendenza, con una nota del 18 marzo 2019, ha risposto alla società che i risultati confermano e precisano i dati già in possesso di quest'ufficio, circa la presenza nel sottosuolo di preesistenze di carattere archeologico e di reperti archeologici in superficie e che l'estesa articolazione delle strutture murarie, propria di un grande edificio, è l'evidente presenza di stratificazioni potrebbero già indicare la possibilità di prevedere una delocalizzazione dell'intervento in progetto.